buon pomeriggio a tutti il tema che trattiamo oggi appunto lo vedete nel titolo tecnologie innovative per i sistemi di rinforzo sismico di strutture in muratura in particolare tra le varie tecnologie innovative che sono state sviluppate negli ultimi anni concentreremo l'attenzione su quei rinforzi della muratura che hanno una capacità di rinforzare sia la risposta nel piano e quella fuori dal piano che agiscono direttamente o indirettamente anche sulla qualità muraria oltre che se ben congegnati ben realizzati sul comportamento d'insieme del fabbricato per arrivare a capire i vantaggi di questi sistemi dobbiamo fare qualche passo indietro ecco chi ha già seguito qualche seminario in passato avrà riconosciuto queste immagini che sono tratti da una campagna sperimentale abbiamo svolto alcuni anni fa la fondazione center di pavia su tre edifici in muratura di pietra con solai e copertura in legno nominalmente identici fra loro ma sui quali sono stati implementate diverse strategie di rinforzo sismico in particolare queste immagini fanno riferimento al primo dei tre prototipi sperimentali ovvero quello nel quale non sono state effetti implementate per rinforzi ma si tratta appunto della struttura di riferimento quindi come vedete da queste immagini qui vedete nelle immagini in questi questi disegni riportati sul quadro fessorativo vedete proprio colorate in grigio le parti che sono state coinvolte in un meccanismo locale quello che poi la norma ha chiamato appunto meccanismo meccanismo locale e qui in questo video vediamo proprio il meccanismo attivato appunto con il rivoltamento e sostanzialmente diciamo il fatto che ci sia questo danneggiamento in questa parte così grave e così prossimo al collasso per la verità preserva c'è una diffusione del danno nel resto della costruzione è una condizione efimera perché questo danno si verifica a un livello di scuotimento piuttosto limitato e quindi questo comporta la perdita di questo collasso locale prematuramente e dopo collasso locale in realtà la struttura risulta ancora più vulnerabile quindi siamo poi c'è un collasso progressivo come si dice ecco qui vediamo alcune immagini del del provino vedete come appunto qui c'è questo meccanismo di ribaltamento allora a contrasto di questo meccanismo come la prevenzione di questo meccanismo nel secondo prototipo sperimentale è stato implementato un sistema di miglioramento dei collegamenti che ha consentito di evitare questo meccanismo in favore ovviamente di altre modalità di danneggiamento che hanno coinvolto la risposta delle pareti nel piano qui vediamo appunto ancora immagini del meccanismo dato e qui vediamo invece la risposta del provino in cui sono stati e migliorati i collegamenti sono stati realizzati ricordo un cordolo metallico all'altezza del piano intermedio e un cordolo in muratura armata all'altezza della copertura poi sul sulle falde del tetto e sul piano di del solaio intermedio sono stati realizzati tramite un tavolato inclinato a 45 gradi degli irrigidimenti del solare stesso un'altra diciamo tecnica di rinforzo che punta a modificare la risposta della costruzione in effetti come vediamo il la risposta è sicuramente più favorevole più controllata e porta alla struttura ad aggiungere delle condizioni di incipiente collasso a un livello di scuotimento molto più alto rispetto a quello dell'attivazione di meccanismi in bioca tuttavia questo è un edificio molto semplice è una struttura regolare di soli due piani che questo sistema di consolidamento riesce a portare fino a un certo livello che vedete il danneggiamento che si instaura nella settora nella costruzione che ha dominato come vedete dalla risposta per taglio al danneggiamento per taglio di un maschio murario alla base del piano terra nella parete più rigida tra quelle orientate nella direzione dello scuotimento ecco questo danneggiamento ci dice che abbiamo raggiunto la capacità massima di quella struttura con quella muratura se vogliamo andare oltre se vogliamo dare una capacità ulteriore alla nostra struttura non basterà migliorare i collegamenti evitando i meccanismi locali non basterà irrigidire gli orizzontamenti andando a ridistribuire le azioni tra le varie pareti ma dovremmo agire sulla qualità murale dovremmo agire sulla capacità che hanno le pareti in di resistere all'azione del terremoto nel loro piano sostanzialmente ecco un'applicazione analoga un'applicazione analoga l'abbiamo fatta su un prototipo più grande in scala che come dicevo conferma il risultato ottenuto sulla sulla piccola casetta ecco qui vediamo ancora immagini più ravvicinate fotografie dei danni finali nella nella prova a un livello di scuotimento come diciamo molto più elevato rispetto a quello precedente e passiamo a vedere quello che accade su un edificio più grande questi sono in realtà sono due edifici accoppiati con questo prototipo in scala rappresenta un aggregato edilizio di due edifici debolmente connessi fra loro in cui la presenza delle connessioni migliorate e il collegamento tra le travi dei solai e le murature previene una serie di cinematismi locali meccanismi di danno ma a un certo punto si assesta diciamo su un meccanismo che coinvolge in questo caso prevalentemente il rocking delle murature la pressoflessione nel piano delle murature e ad un certo punto limita appunto questa capacità con una attivazione dei dei danni questo tipo di osservazioni forse in maniera più o meno consapevole in realtà sono già state fatte a valle di terremoti del passato nei quali anche per la disponibilità di modelli di calcolo più limitati siano sono arrivati ad adottare delle tecniche di rinforzo che invece puntavano prima sulla qualità e la qualità del nostro rinforzo della qualità muraria e sulla sugli rigidimento dei solai anche qui abbiamo alcune slide che qualcuno potrebbe ricordare qui siamo 76 in friuli con le due scosse a distanza di sei mesi una dall'altra che hanno messo in ginocchio una regione e che poi appunto come sappiamo ha saputo rialzarsi ma in quel periodo è stato particolarmente disastroso e tutti quei danni che ci sono stati agli edifici ordinarie le chiese agli edifici pubblici in realtà non sono stati i vani perché insieme a quello che è successo poi per i terremoti successivi hanno insegnato un sacco di cose agli ingegneri ecco qui vediamo tre anni dopo in valerina norcia nell'anno successivo ancora il grande terremoto del dell'irpinia nel 1980 dopo questi tre terremoti come succede spesso poi in tutto il mondo in italia in particolare c'è un aggiornamento delle norme da prima una circolare che vedete del luglio dell'81 che reca istruzioni per l'applicazione per la riparazione e rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma poi da questo regolamento poi deriveranno anche le norme di progettazione e rinforzo delle delle strutture per gli anni successivi ecco basi come dicevamo sono quello di un modello semplificato nato proprio dall'osservazione dei danni del friuli e basato su quello che il calcolo all'epoca consentiva per un'applicazione di tipo normativo adesso abbiamo i modelli a telaio equivalente che non hanno tutte le ipotesi semplificative del cosiddetto metodo core metodo core era un modello molto semplificato che ragionava per piani rigidi quindi veniva consentire di analizzare un piano per volta le pareti in parallelo legate anch'esse dalla degli orizzontamenti e diaframmi rigidi insomma una serie di di semplificazioni anche drastiche ma che si basava se vogliamo già su un'idea di analisi statica non lineare che poi come sappiamo ha avuto delle evoluzioni e oggi rappresenta il metodo normalmente utilizzato per l'analisi e la verifica delle costruzioni in muratura e soprattutto per la verifica del rinforzo e del livello di sicurezza raggiunta dopo raggiunto dopo un intervento sulle strutture esistenti un punto chiave del del metodo e della e della circolare della norma dell'epoca era proprio il passaggio di questa resistenza di riferimento che veniva chiamata tau k che poi qualcuno credeva che questo k fosse avesse un significato statistico di valore caratteristico quando in realtà traducendosi dallo sloveno era un valore di calcolo ma il uno dei come vedete in questa tabella nelle tecniche di consolidamento compare questa questo consolidamento con l'applicazione di due lastre in calcestruzzo armato da almeno tre centimetri quindi il cosiddetto betoncino e tonaco armato che comporta un salto nella resistenza a compressione ma soprattutto a taglio che che il parametro che veniva considerato nella resistenza per il metodo foro il metodo foro ben inizialmente non considerava la possibilità di una di una crisi per pressofessione del pannello ma solamente per taglio quindi vedete come passare a 2 7 4 tonnellate metro quadro in questo caso queste sono le unità a 11 comportava un salto sicuramente significativo e un ulteriore beneficio veniva riconosciuto nell'aumento della duttività quindi indirettamente della capacità di spostamento di questi pannelli qui vedete come appunto il pannello rinforzato con rete in il betoncino poteva passare da un e mezzo a due quindi un aumento di un terzo in questo era molto moderna la norma e perché se pensiamo poi a quello che abbiamo oggi in realtà questo questa parte scopriamo che ci manca è la tecnica dell'intonaco armato tradizionale era una tecnica che aveva nasceva come elemento di confinamento quindi il placcaggio con l'armatura tipicamente in rete elettrosoldata applicata entrambi i lati con dei connettori e poi con un getto di una rosatura in un calcestruzzo tipicamente veniva solidarizzata c'erano ovviamente una serie di fasi operative da seguire ma sostanzialmente una tecnica che ha sicuramente dei vantaggi dal punto di vista strutturale e li vedremo ma una serie di limiti e di controindicazioni legate appunto all'aumento delle masse strutturali all'aumento della rigidezza anche locale alla elevata invasività e la sostanziale non reversibilità dell'intervento e un'alterazione anche degli aspetti di traspirabilità l'asta in calcestruzzo sostanzialmente impermeabile alla traspirazione del vapore questi sono appunto le varie fasi l'emozione dell'intonaco posa della rete dei connettori dopodiché il getto ora meno dell'uso di barre inox tipicamente utilizzate solamente per i connettori trasversali un problema significativo di queste queste lastre relativamente sottili in calcestruzzo armato anche esposte tipicamente nelle pareti esterne a condizioni aggressive comportano fenomeni di degrado inevitabilmente e quegli anni in cui si è iniziato a utilizzare in maniera massiccia questo tipo di interventi la sensibilità che oggi abbiamo alla ai fenomeni del degrado della durabilità dei materiali erano sicuramente meno meno sviluppati questo l'abbiamo detto quindi diciamo rigidezza impermeabilizzazione e confort in generale quindi insieme ai vantaggi strutturali abbiamo anche una serie di svantaggi e qui vediamo immagini appunto magari qualcuno qualcuno sono familiari immagini di intonaci applicati solo su una faccia quindi diciamo anche legati a una cattiva applicazione applicazione non rispondente problematiche di ossidazione delle reti elettrosaldate quando non adeguatamente ricoperte da calcestrutto poi chiaro che lo spessore del calcestrutto a questo punto diventa un problema si interno che esterno anche qua vedete difetti di ossidazione sovrapposizioni non adeguate sono immagini di danni in parte create dall'intervento in assenza di terremoto ma poi vedremo anche come alcuni errori di applicazione di questi interventi abbiano portato alla perdita di efficacia quindi anche la perdita dei vantaggi che l'intervento invece avrebbe fornito dal punto di vista strutturale questi interventi qualche volta venivano utilizzati anche come interventi localizzati come le norme tecniche ancora consentono di fare tuttavia bisogna sempre stare attenti che un intervento locale può essere un intervento che magari si è efficace nei riguardi di un di una problematica che si rileva nella nella zona in cui viene situato l'intervento tuttavia dobbiamo sempre stare attenti a verificare quali sono le conseguenze del nostro intervento cosiddetto locale su quello che sta attorno cioè sul resto della struttura perché magari il rischio è quello di spostare un problema quindi per esempio possiamo avere concentrazione di sforzi o di deformazioni in alcune zone nelle quali prima non non gli avevamo quindi questo può essere causa dei problemi ecco in questo senso vedete come in queste immagini un'applicazione di questi interventi qui siamo nella zona penninica da parte credo che sia isernia questa se non vado errato applicazione avvenuta appunto dopo il terremoto del 1980 e vedete come in realtà appunto per ragioni di carattere estetico architettonico questa applicazione dell'intonaco armato non è fatta esattamente a regola d'arte o quantomeno non rispecchia i requisiti di continuità di dare risvolti sugli angoli eccetera anzi qui i cantonali vengono lasciati a vista e questo edificio che ormai abbiamo fatto vedere tante volte è l'emblema di quell'esempio di quell'edificio in cui appunto per ragioni magari indipendenti dal progettista il piano terra viene lasciato con una muratura in pietra vista mentre l'intonaco armato è applicato ai piani superiori questo ovviamente non fa altro che probabilmente favorire la concentrazione del danneggiamento proprio dal piano terra c'è quello su cui non si è intervenuti un caso interessante è quello di norcia norcia cittadina molto bella che ha una storia travagliatissima dal punto di vista dei terremoti già dal si tratta di insediamento in una zona tra quelle più attive dal punto di vista sismico e punto colpita pesantemente del terremoto del 79 in della valnerina già colpita sostanzialmente distrutta dal terremoto in 1859 poi ricostruita seguendo alcune regole della introdotte dallo stato pontificio all'epoca con limitazione al numero di piani limitazione sui materiali e la necessità di avere buoni collegamenti ecco queste protezioni indotte dopo nella ricostruzione successiva al terremoto del 59 dell 859 si è poi rinforzata le stesse con tutti i sistemi di consolidamento e rafforzamento introdotti dalle per la circolare del 81 e in particolare sia questa legge regionale che creca direttive tecniche per la riparazione e consolidamento degli edifici danneggiati tra i vari interventi proposti in queste direttive c'è ovviamente anche l'intorno a formato con precise specifiche quindi su modalità di applicazione e ad esempio il numero di connettori a metro quadro che è veramente elevato gli otto connettori a metro quadro rappresentano un numero molto grande come sappiamo poi norcia è stata colpita anche da altri terremoti il terremoto del 1997 del 27 settembre 97 ha ulteriormente chirurgicamente diremmo colpito alcuni di questi edifici che non erano stati rinforzati adeguatamente dopo di che si è presentata al terremoto del 2016 in particolare la scossa del 30 ottobre del 2016 ha avuto il più centro proprio pressi della della città di norcia e ha sostanzialmente collaudato gli aspetti strutturali di questi di queste tecniche di consolidamento con risultati generalmente positivo e positivi e qualche e qualche limite come vedremo tra poco qui vedete la diffusione degli interventi utilizzati e qui vediamo una statistica dice un circa 10 per cento di questi edifici sono stati rinforzati con la con questa tecnica probabilmente ma stima vediamo come dal punto di vista anche dell'agibilità delle costruzioni la presenza di questa tecnica abbia consente di sommare gli edifici agibili o agibili con provvedimenti o temporaneamente inagibili che arriva una quota percentuale del approssimativamente poco meno dell'80 per cento e mentre gli edifici più o meno della stessa epoca ma su cui non erano stati fatti interventi scendono al poco più del 30 per cento il valore dell'80 per cento è poco sotto quello degli edifici costruiti successivamente all'82 quindi con nuove norme tecniche e anche questa immagine insomma il grafico è poco forse poco leggibile ma ci mostra come alla variare dell'epoca storica e dell'intervento ci siano appunto un netti miglioramenti e riduzione del danno medio osservato questo queste statistiche dei danni sono relative alla ovviamente alla crisi sismica dell'italia centrale 2016-17 e qui appunto siamo in norcia direi forse un edificio a preci se vado a memoria insomma e anche qui vediamo come quei difetti o presunti difetti di realizzazione coi cantonali a vista eccetera in realtà si dimostrano come difetti sostanzialmente minori e vediamo come questa tecnica almeno dal punto di vista strutturale in realtà sia in grado di preservare la costruzione di salvaguardare la sicurezza della costruzione con tutta una serie abbiamo visto di limitazioni tecnologiche e e qui appunto vediamo questa immagine di di norcia dopo le scosse dell'agosto e dell'ottobre del 2016 ecco sostanzialmente negli stessi giorni amatrice si presentava così e qui effettivamente c'è una storia di interventi differente gli interventi eseguiti in maniera massiccia norcia su un costruito già bisogna dirlo probabilmente in partenza migliore sono quelli che hanno fatto la differenza insieme appunto quelle limitazioni sul numero di piani eccetera però ecco qui vediamo come effetto della delle ricostruzioni operate noce dopo i terremoti seguendo alla fine questi interventi di forza così sicci se vogliamo così sistematici ha portato a uno scenario completamente diverso e per fortuna di norcia tuttavia a norcia stessa abbiamo una serie di esempi negativi di mancanza di sovrapposizione degli intonaci che portano questo caso vedete un edificio relativamente recente a una a un collasso vedete la perdita di un semipiano di un piano del piano rialzato che si trova essere il piano terra in questo questo edificio così come questi edifici sono interessati da meccanismi locali e vedete sono edifici nei quali l'intorno fermato era applicato solamente dall'interno senza che ci fosse un efficace collegamento esterno anche qui mancanza di sovrapposizioni adeguate anche qua la sovrapposizione avete non è adeguato abbiamo il distacco di una parte di l'intorno che sicuramente ha lavorato ma ecco non ha avuto un comportamento una prestazione adatta ecco questi queste tecniche di consolidamento sono efficaci e di loro efficacia può essere dimostrata anche attraverso prove di laboratorio queste sono alcune prove condotte in nell'odierna repubblica di macedonia del nord dove c'è un laboratorio storicamente della ex jugoslavia istituiti dopo il terremoto di scopo del 63 e lì abbiamo alcune prove eseguite in maniera esplicita per verificare l'efficacia degli intonaci armati nella questo caso intonaci armati tradizionali con riferimento agli alle stesse tipologie di muratura con appunto e senza applicazione dell'intonaco vediamo un incremento significativo della resistenza e in parte anche della capacità di spostamento le tecniche innovative sostituiscono sostanzialmente i materiali allora abbiamo malte performanti anche dal punto di vista della compatibilità con i materiali dell'edilizia storica e la sostituzione di elementi metallici essenzialmente in acciaio ordinario con materiali con nuovi materiali materiali compositi o connettori connettori che possono essere anche in composito oppure per esempio in acciaio inossidavi ecco qui i nuovi materiali compositi abbiamo imparato già da qualche anno a confrontarci con i cosiddetti frp ovvero i polimeri fibro rinforzati che hanno un tipo di applicazione generalmente più localizzato e sulla muratura hanno una applicazione se vogliamo un po un po limitata e poi invece abbiamo queste tecniche cosiddette crm o fc rcm che rappresentano la tecnica dell'intonaco armato sotto una nuova veste cioè sotto una veste in cui abbiamo un un contributo di resistenza simile appunto quello dell'intonaco armato ma senza i difetti del per esempio del degrado dei materiali in particolare dell'acciaio perché la rete anziché essere la rete di armatura anziché essere realizzata in acciaio può essere realizzata appunto i materiali polimerici compositi a base di carbonio di vetro di il pdo che è un materiale che deriva dall'industria aero spaziale che ha prestazioni eccezionali o il basalto o altri materiali che possono essere utilizzati proprio per la realizzazione di reti rigide o di tessuti unidirezionari o bidirezionali che sono immersi in una matrice organica in realtà appunto un vero e proprio intonaco una malta che può avere anch'essa prestazioni molto elevate magari sono malte a base di calcio ma magari sono parzialmente fibro rinforzate quindi hanno anche resistenza tra azione loro stesse piuttosto elevate all'ordine di 3 4 mega pascala o qualche caso anche superiore qui vediamo alcuni dettagli per esempio dei sistemi cosiddetti crm cioè quelli con la rete rigida e connettori che tipicamente sono realizzati in acciaio poi con degli elementi di diffusione ovviamente questi interventi sono utilizzabili se l'edificio può essere intonacato o è già intonacato evidentemente se c'è la necessità di mantenere l'edificio faccia vista bisogna utilizzare delle soluzioni parziali e su queste oggettivamente manca ancora qualche risposta in realtà la ricerca sta lavorando anche su questo appunto l'intorno al crm può essere costituito da diversi componenti componente base ovviamente una malta che può essere o a base cementizia o a base di calce con prestazioni elevate e garantite per l'uso strutturale e poi una serie di elementi ovviamente la rete di armatura elementi di raccordo come angolare gli stessi connettori e gli ancoraggi per la realizzazione della connessione della solidarizzazione tra intonaco armato e muratura questi materiali sono soggetti a prove di qualificazione sono materiali nuovi e come tali devono essere certificati questo vale per il rm così come per gli frcm qui vediamo alcuni esempi in questo caso una fibra di vetro e si vede come da prove di compressione diagonale quindi fatte su piccoli pannelli si nota sostanzialmente l'incremento di resistenza dovuto alla presenza dell'elemento di consolidamento ci sono varie ricerche su questi materiali anche perché ci sono diverse realtà industriali che hanno investito giustamente su questi su questi settori il limite se mi posso permettere è quello di avere nella stragrande maggioranza dei casi limitato la ricerca e l'investigazione alla sola resistenza a taglio dei pannelli i piccoli pannelli soggetti a prove di compressione diagonale qua vediamo appunto alcuni risultati che ad esempio ci mostrano come non sia solo l'armatura ad avere un ruolo rilevante ma anche la tipologia dell'intonaco quindi per esempio nella valutazione della resistenza del pannello anche per se qui appunto come dicevamo ci limitiamo alla compressione diagonale abbiamo un efficacia un ruolo da riconoscere alla matrice cementizia o a base di calce nella quale l'armatura viene a lavorare altri casi quelli di prima erano realizzati a colleghi dell'università di napoli qui siamo a milano al politecnico vedete come anche qui il risultato è sostanzialmente simile quindi abbiamo una rigidezza molto elevata una resistenza raddoppiato più che raddoppiata anche in questo caso l'altra tecnica forse ancora più interessante e innovativa è quella del cosiddetto FRCM Fiber Reinforce Cementitious Mortar ovvero una malta cementizia che viene stesa a basso spessore e a prestazioni molto elevate che è rinforzata non con una rete rigida ma con un tessuto un tessuto che può essere se l'abbiamo detto unidirezionale o bidirezionale viene resa solidale alla muratura tramite i connettori trasversali in molti casi questi connettori sono anch'essi polimerici e sono dei fiocchi di tessuto che possono essere appunto realizzati come elementi di collegamento tra il placcaggio superficiale e la muratura stessa il comportamento di questi materiali una volta solidarizzati tende ad avere un andamento sostanzialmente trilineare ecco qui vedete un ramo iniziale con una rigidezza che è governata dal comportamento della sola matrice della malta in cui è annegata la rete di rinforzo un comportamento finale che tende asintoticamente alla rigidezza della sola rete e un comportamento intermedio che spesso viene trattato come un ramo quasi costante di resistenza in cui gradualmente si passa attraverso la diffusione della fessurazione dal comportamento iniziale a quello finale sull'IFRCM che sono chiamati anche TRM cioè textile reinforced mortar cioè malte rinforzate con un tessuto hanno lavorato in tanti probabilmente i primi a lavorarci in maniera convinta sono stati i ricercatori dell'università di Patrasso e in Grecia che hanno fatto anche qualche prova non solo di compressione diagonale ma anche su delle tipologie di muratura in realtà hanno scelto delle murature particolarmente scadenti e vulnerabili che alla fine il risultato è di difficile estrapolazione in ogni caso si nota da questi risultati l'aumento sia della resistenza che è confermato in tutte le prove e l'ordine di grandezza non è sbagliato è di almeno il doppio è un parziale anche incremento della capacità di spostamento che però è più incerto in questi casi ci sono prove anche fuori dal piano e in effetti queste soluzioni consentono di avere un rinforzo a trazione per la parte esterna della muratura o anche a compressione fin tanto che tengono i connettori e molto più interessante a mio avviso può essere questo tipo di utilizzo ovvero del rinforzo intradossale delle arcate, delle volte in particolare un'applicazione che è stata utilizzata in più occasioni è quella del rinforzo dei ponti ad arco ponti ad arco che possono essere ponti ferroviari in molti casi ma anche altre tipologie di manufatti con varie applicazioni di campo stradale, agricolo, contatto questo tipo di rinforzo è sostanzialmente efficace ovviamente meno rispetto a un rinforzo estradossale l'inforzo estradossale ha il vantaggio che difficilmente ha un distacco proprio per la forma convessa della superficie dalla superficie della volta, dell'arco stesso mentre quello intradossale a un certo punto può avere appunto un distacco tuttavia, un po' come le stecche dell'ombrello, anche questo tipo di rinforzo all'intradosso ha una capacità di incrementare la resistenza e i colleghi dell'Università di Roma, Roma 3, hanno dimostrato come in effetti questo rinforzo sia dell'ordine di grandezza della metà di quello che raggiungeremo nel caso del rinforzo estradossale quindi è comunque un rinforzo molto significativo e molto utile le norme tecniche e la circolare riconoscono l'efficacia dei rinforzi non entrano però per la verità in eccessivo dettaglio su come valutare l'efficacia dei rinforzi nel calcolo della sicurezza di un edificio sui quali questi rinforzi siano stati applicati in particolare sapete che abbiamo queste tabelle con le proprietà delle murature e queste tabelle che recano anche il miglioramento atteso delle proprietà nel caso dell'applicazione di intonaci armati questa colonna evidenziata in rosso e vedete come questo coefficiente migliorativo delle prestazioni sia un coefficiente che oscilla tra 1,2 e 2,5 ma non dipende dall'intorno che stiamo applicando dipende solo dalla tipologia di partenza rispetto alla quale ci stiamo confrontando quindi può essere oltre il raddoppio della resistenza di una muratura in pietramo e disordinato mentre rappresenta un miglioramento marginale nel caso di una muratura a blocchi da piedi squadrati detto che c'è una logica dietro questo le prove che abbiamo a disposizione ci dicono anche che la realtà non è così limitata nel senso che anche il tipo di rinforzo ha una sua importanza cioè il rinforzo che applichiamo può avere caratteristiche diverse e non tutti i rinforzi hanno la stessa efficacia nell'aumentare la resistenza ad esempio quindi se vogliamo focalizzarci su alcune delle carenze da un lato normative e di conoscenza o quantomeno di conoscenza condivisa di conoscenze acquisite nella comunità tecnico-scientifica abbiamo questi punti ovvero l'effetto degli intonaci armati sulla capacità di spostamento dei pannelli murari il POR dava un'indicazione sugli effetti degli intonaci armati ma la dava senza che questo che quel numero fosse suffragato dalla numerosità di prove né fosse risultarsi dall'applicazione di tipologie murari diverse o a tipologie di intonaci differenti l'incremento di resistenza dovuto all'intonaco armato che è indipendente dalle caratteristiche dell'intonaco della rete, dei connettori ancora nella norma che utilizziamo oggi rappresenta certamente un limite perché poi come vedremo anche tra poco ci sono differenze e queste differenze possono essere assolutamente significative ci sono poi proposte che circolano relativamente al contributo di resistenza che solo in funzione delle caratteristiche della rete in particolare per quanto riguarda gli intonaci armati CRM che invece alla luce di risultati sperimentali disponibili dovrebbero in qualche modo tenerne conto in particolare l'efficienza della rete della capacità di trasferire gli sforzi alla muratura dipende dalla matrice dall'intonaco nel quale la rete è immersa quello che sarebbe necessario e fortunatamente siamo riusciti a convincere diciamo qualche in particolare un'azienda illuminata a investire su questo è la sperimentazione ciclica su marchi maschi murari o addirittura su pareti se non prove su tavola vibrante per valutare l'efficacia del rinforzo non a livello solamente del materiale muratura ma almeno passare alla scala del componente strutturale se non dell'intera struttura questo ovviamente sarebbe molto utile soprattutto per validare dei modelli soprattutto per avere una sensibilità su come poter tenere conto dell'efficacia di questi interventi ecco alla luce di questo dicevamo i materiali i nuovi materiali devono essere certificati saggiamente il consiglio superiore dei lavori pubblici ha emanato delle linee guida per questo tipo di qualifica e sono abbastanza ricche e portano alla assegnazione di un certificato di valutazione tecnica si tratta di centinaia di prove per qualificare un singolo sistema e quando parliamo di sistema o meglio dire di kit parliamo di un sistema che accoppi un certo tipo di malta ad un certo tipo di rete e soluzioni di collegamento vengono fatte le prove sulle reti le prove sui kit vedete ancora il comportamento trilineare qui lo vedete molto più pulito rispetto anche ai grafici che abbiamo visto prima ci sono per esempio differenze tra quello che vedete qua sono due tipologie di kit messi a confronto tra un kit con rete idirezionale e un kit con rete monodirezionale unidirezionale che vedete in questo caso il comportamento trilineare è più marcato ovviamente poi la crisi si ha alla fine con la crisi della rete insieme a queste caratterizzazioni che vengono ripetute dopo una serie di condizionamenti dei kit e delle reti quindi parliamo di trattamenti termici di cicli di gelo-disgelo di condizionamento in ambiente umido in ambiente alcalino, salino cioè ci sono una serie di prove anche piuttosto severe che questi sistemi devono supportare abbiamo anche delle prove proprio di relative ai collegamenti con la muratura in pratica queste prove sono una prova diciamo di estrazione del connettore quindi è un classico pull out e poi una prova di distacco del supporto in questo caso il distacco dalla muratura della rete quindi va a misurare l'aderenza la resistenza tangenziale che si sviluppa tra supporto e rete sempre che la crisi sia lì perché poi in queste prove la crisi può avvenire anche all'esterno che vuol dire che il punto critico il punto debole non è il distacco dalla muratura ma è quello della rete stessa quindi questo problema di distacco si pone molto meno ecco il tema che a cui accendavamo prima era proprio quello dell'effetto dei componenti del kit di rinforzo sulla capacità intesa come resistenza ma poi anche come capacità di spostamento delle murature adesso in questo senso Rurigold ha commissionato al mio dipartimento una grande campagna di prove con una serie di prove in questo caso di compressione diagonale e di compressione verticale su una serie di pannelli che mettevano a confronto una serie di varianti dei componenti del kit di rinforzo queste varianti sommariamente riguardavano la tipologia del rinforzo stesso la tipologia della malta utilizzata per linton abbiamo una serie di variazioni anche con elevate prestazioni la tipologia il numero dei connettori utilizzati è chiaro che su un pannello delle dimensioni circa di un metro per un metro non è che si possa poi variare così tanto nella visita dei connettori e poi facendo riferimento anche a quello che dicevamo prima cioè al fatto che non sempre l'applicazione su entrambi i lati è possibile abbiamo voluto esplorare l'efficacia di questi sistemi applicandoli solamente da un lato quindi volendo lasciare l'altro lato senza intervento o con un intervento per esempio di stilatura dei giunti lasciando però la muratura faccia vista ecco qui diciamo i colori raggruppano le varie le varianti sulle tipologie di malte tipologie di rinforzo e di connessione poi appunto su questo dobbiamo ancora forniremo dei risultati più più accurati in termini di descrizione dell'efficacia dei singoli sistemi quello che possiamo però notare subito è che in termini di resistenza associata a questa prova di compressione diagonale la barra nera di riferimento qui a sinistra è la resistenza della muratura non rinforzata tutti i sistemi di rinforzo anche quelli con l'applicazione da un solo lato ci portano ad avere una resistenza associata alla compressione diagonale che è almeno doppia rispetto a quella di partenza in alcuni casi abbiamo quasi cinque volte la resistenza di partenza quindi anche come dire un beneficio eccessivamente elevato questa muratura di partenza si vede dalle immagini si vedeva dalle immagini prima una muratura a doppio paramento in pietra non particolarmente resistente con una malta volutamente rappresentativa di condizioni di degrado quindi con resistenze piuttosto piuttosto basse tuttavia il risultato è di questo tipo quindi da un certo punto di vista qua abbiamo una fotografia del fatto che tutti i sistemi di tutte le varianti almeno considerate nei sistemi di rinforzo con intonaci armati moderni portano almeno al raddoppio della resistenza data una certa muratura tuttavia ci sono significative variazioni significative differenze a seconda dei dettagli e questi dettagli devono in qualche modo rientrare tra le caratteristiche che contano ai fini del calcolo della resistenza alcune lo sono in effetti sono già contate se per esempio applichiamo i criteri di resistenza sviluppati per il CRM all'FRCM ovviamente cambiano le armature cambiano le caratteristiche e ci ritroviamo il ruolo della matrice dell'intonaco invece deve essere ancora valorizzato la campagna sperimentale non si è fermata solo le prove di compressione diagonale siamo riusciti a fare due prove cicliche nel piano di taglio compressione queste le abbiamo eseguite nel laboratorio della fondazione Center e qui vedete il setup di prova ovvero un sistema che tramite l'applicazione di un carico verticale le condizioni di vincolo prefissate mette in carico questa porzione centrale di muratura che è rappresentativa del nostro maschio murario compreso tra due finestre in cui abbiamo appunto questo provino con questa forma a WT che rappresenta appunto la porzione di parete muraria coinvolta dalla dal sistema di armatura perché poi il rinforzo in realtà prosegue evidentemente oltre questa parte centrale si tratta di prove che abbiamo eseguito molto di recente queste sono le immagini al termine delle prove per i due provini hanno stiamo ancora elaborando tutti i dati per cui non ho grafici da mostrare sarò contento di farlo una prossima volta tuttavia come vedete in termini di danneggiamento associati a una capacità di spostamento che è nettamente superiore rispetto a quella che questi muri avrebbero avuto in assenza di rinforzo ci permettono già di avere delle informazioni ulteriori per fissare quantomeno una tendenza è chiaro che serviranno altre prove per confermare l'efficacia di questi kit di questi sistemi di rinforzo per queste tipologie di muratura e per altre e qui vi faccio notare che le due tecniche ovvero CRM e FRCM sono applicate sulla stessa tipologia di muratura in pietra da dove tipicamente il rinforzo FRCM deniva per lo spessore ridotto limitato alle murature con una superficie esterna più regolare quindi in particolare murature in mattoni o blocchi quello che abbiamo ottenuto in queste prove è una una capacità che a grandi linee porta il muro rinforzato ai livelli di capacità di spostamento di una muratura armata nuova ovviamente non finisce qua nel senso che continua sia il seminario con interventi dei colleghi ma soprattutto continueranno le ricerche in questo in questo campo e quelle lacune di cui vi ho parlato prima sono proprio quello che vogliamo cercare di colmare con le attività che svolgeremo nei prossimi mesi vi ringrazio tutti per l'attenzione buonasera a tutti io sono l'ingegner Santi Urso faccio parte dell'ufficio tecnico di Laterliter Ruregold e oggi affronterò un po' il tema dei compositi che è già stato affrontato dal professor Penna e vi parlo quindi ok quindi inizio subito con con la presentazione parlandovi appunto di quello che oggi vedremo quindi faremo una brevissima definizione e classificazione delle caratteristiche dei materiali compositi successivamente vedremo qual è il contesto e l'inquadramento normativo di questi materiali compositi da utilizzare per il rinforzo strutturale e le tipologie di intervento che si possono utilizzare per le strutture in muratura volendo fare una brevissima introduzione sui materiali compositi cosa sono e come si realizzano sono formati da due componenti che in questo caso chiameremo fasi quindi fase 1 formata da una fibra che può essere discontinua o continua e da una fase 2 che è la matrice che ingloba la fibra che in questo caso è rappresentata dal rinforzo e ha il compito di inglobarla e trasferire i carichi all'elemento resistente ovviamente si otterrà un materiale composito che avrà delle proprietà particolari che dipenderanno sia dalla geometria ma anche dalla distribuzione del rinforzo all'interno della matrice quali sono i materiali compositi che si utilizzano nell'edilizia ordinaria o perlomeno quella dei rinforzi strutturali i più comuni FRP formati da resine epositiche e tessuti ad alte prestazioni i sistemi FRCM che costituiscono la naturale evoluzione dei sistemi FRP in cui alla matrice polimerica si sostituisce una matrice cementizia una malta che può essere sia cementizia che base calce e in sostituzione del tessuto si utilizza una rete ad alte prestazioni l'azienda infatti propone una rete delle reti ad alte prestazioni in fibra di PBO poi ci sono i sistemi FRC ovvero dei calcestruzzi fibrorinforzati ad alte prestazioni che sono particolarmente utilizzati per il consolidamento degli elementi in CA quali le colonne o le travi o anche all'estrodossosi solai e infine i sistemi CRM che rappresentano invece l'evoluzione dei classici intonaci armati che erano spesso utilizzati con reti elettrosaldate senza connettere e betoncino in questo caso la rete elettrosaldata è sostituita da una rete in fibra sintetica quindi in composito e vengono utilizzati anche dei connettori che sono certificati all'interno all'interno del prodotto e una serie di accessori che vanno a completare il sistema il tema di oggi ovviamente visto anche il supporto di muratura su cui dobbiamo intervenire parleremo di sistemi FRCM e di sistemi CRM in particolare rivediamo un attimo cosa sono i sistemi FRCM quindi una matrice inorganica è una rete in fibra ad alte prestazioni quindi vediamo nelle immagini qui in questa slide come vengono utilizzati per esempio su dei pannelli in muratura o anche in alcune strutture dall'esterno come cordolature proprio a favorire il comportamento scatolare della struttura dal punto di vista dei vantaggi quali sono quali possono essere realmente i vantaggi di utilizzare questi materiali allora intanto non aggiungono carichi alla struttura questo vuol dire che non andiamo ad appesantirla o a variarne il comportamento sismico visto anche che non viene modificata la rigidezza dell'elemento su cui si interviene quindi abbiamo inoltre la possibilità di progettare ad hoc il nostro rinforzo in quanto abbiamo la possibilità di individuare il pannello che non risulta soddisfatto che non soddisfa le verifiche e quindi progettare in modo dettagliato l'intervento di rinforzo dal punto di vista applicativo abbiamo una serie di vantaggi in quanto è un intervento molto semplice e veloce da realizzare reversibile ed esteticamente non invasivo e infine ovviamente la principale la proprietà che non altera la geometria originale dell'elemento ma va a influire solo sulla resistenza e sulla dottilità della struttura e dell'elemento dal punto di vista normativo come sono come sono contestualizzati questi sistemi allora l'NTC suggeriscono che per un materiale per essere utilizzato nell'edilizia e quindi come rinforzo strutturale è necessario che sia identificato qualificato è accettato e quindi come descritto anche dalla circolare debba essere munito di una marcatura ECE o di un certificato di valutazione tecnica quindi esistono dei documenti quali il documento di qualificazione che è ovviamente finalizzato alle aziende produttrici di questi sistemi che devono seguire un iter molto stringente per ottenere la qualificazione del materiale del sistema in questo caso quindi il classico CVT abbiamo un documento di progettazione rilasciato dal CNR che è il documento DT 215 del 2018 attualmente non esistono ancora dei produttori che hanno ottenuto il certificato di valutazione tecnica in Italia quindi l'accettazione è rimandata a giugno 2022 come anche confermato dalla proroga del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in tal senso l'azienda Rurecolp come anche anticipato precedentemente dal professor Penna ha già concluso l'iter di qualificazione per i nostri sistemi avendo già ricevuto una risposta positiva dal servizio tecnico centrale siamo quindi in attesa del rilascio del certificato che ovviamente dovrà seguire dei tempi burocratici prima di essere rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per quanto riguarda invece i sistemi CRM i sistemi CRM si differenziano dai sistemi FRCM precedentemente descritti perché ovviamente i componenti del sistema sono diversi entriamo un po' nel dettaglio nei sistemi FRCM lo spessore di intervento è molto piccolo stiamo parlando di circa 8-10 mm totali per intervento quando si parla invece di sistemi CRM quindi di intonaco armato se andiamo su spessori minimi che sono comunque superiori ai 30 mm infatti lo spessore medio di intervento varia tra i 30 e i 50 mm in più le reti che compongono il sistema sono ben diverse da quelle delle FRCM mentre per il primo abbiamo delle reti che sono flessibili e che devono essere appoggiate sulla matrice cementizia o base calce in questo caso le reti sono delle reti rigide e soprattutto sono reti preimpregnate che devono essere fissate al supporto tramite degli opportuni connettori e fazzoletti che hanno il compito non solo di collegarle con la struttura esistente ma anche di trasferire in modo perfetto il carico dall'elemento esistente al rinforzo quindi spesso si ovviamente si confondono questi due sistemi però in realtà sono dei sistemi molto diversi tra di loro come possono essere utilizzati i sistemi CRM dal punto di vista normativo sappiamo che la circolare esplicativa alla tabella C851 fornisce le resistenze minime per quanto riguarda le diverse tipologie di muratura nella sempre nella circolare esplicativa al capitolo al capitolo 4 si parla di utili interventi mediante placcaggio delle murature utilizzando l'intonaco armato e in tal senso sempre nella circolare esplicativa nella tabella C852 vengono suggeriti i coefficienti migliorativi che si possono applicare sulle diverse tipologie di muratura quando vengono effettuati degli interventi di rinforzo in particolare vediamo come nella colonna evidenziata in rosso quali sono i coefficienti moltiplicativi che possono essere utilizzati quando si fanno gli interventi con intorno armato o in questo caso con sistema CRM come descritto precedentemente al professor Penna nel caso della sperimentazione effettuata in collaborazione tra l'università di Pavia e l'azienda Ruregold avevamo deciso di indagare una muratura disomogeneo a conci sbozzati in cui l'intervento di intorno armato permette di raggiungere un coefficiente moltiplicativo pari a 2 e come dimostrato la sperimentazione questo coefficiente non solo è stato raggiunto ma è stato ampiamente superato raggiungendo dei picchi anche pari a 2.8 o 3.3 tutti i risultati che presto vedremo pubblicati che daranno anche validità dei sistemi di intorno armato Ruregold dal punto di vista normativo questi sistemi come sono inquadrati allora c'è una linea guida di qualificazione che permette all'azienda di certificare il proprio sistema l'azienda l'azienda ha quindi il compito di dover seguire l'iter di qualificazione inviare tutta la documentazione al servizio tecnico centrale e infine aver rilasciato il CVT l'azienda in questo caso ha deciso di seguire un iter diverso ovvero quello di una marcatura CE siamo quindi in attesa del rilascio dell'ETA che poi ci permetterà di richiedere la marcatura CE sui nostri sistemi CRM ETA che è praticamente già stato rilasciato siamo proprio in fase di scrittura del documento a differenza però dei sistemi FR e CM nei sistemi CRM non esiste attualmente un documento di progettazione quindi in questa fase l'unico riferimento normativo che ci permette di quantificare l'incremento di resistenza che offrono questi sistemi sulla muratura esistente sono le tabelle di normativa vediamo adesso una serie di interventi che possono essere effettuati con questi materiali facciamo prima un focus su quelle che sono le fasi applicative dei due sistemi parlando inizialmente di FR e CM le varie fasi applicative che bisogna seguire per applicare il sistema in modo corretto sono le seguenti ovvero una iniziale demolizione dell'intonaco esistente perché sono dei materiali che funzionano per aderenza lavorando per aderenza è necessario che la malta del rinforzo debba andare a contatto con il supporto esistente quindi con la muratura in questo caso sarà necessario dunque esportare e rimuovere tutte le parti incoerenti e preparare la superficie al fine di rimuovere tutte le lesioni che sono presenti e in caso effettuare dei piccoli interventi di ricucitura sarà poi necessaria una leggerissima regolarizzazione del supporto solo nel caso in cui è molto danneggiato altrimenti non è un'operazione necessaria invece è importante l'operazione numero 5 in cui è necessario inumidire il supporto e questa operazione è particolarmente importante perché in fase di applicazione del primo strato di malta la malta ovviamente è fresca applicando la malta su un supporto che non è umido in fase di indurimento rischierebbe di essere soggetta al ritiro e quindi si potrebbero creare delle microfressure all'interfaccia tra la malta di rinforzo e il supporto per questo è molto importante inumidire il supporto e renderlo praticamente saturo al fine che in fase di indurimento della malta la malta abbia comunque una riserva di acqua da cui poter prendere diciamo questa questa acqua in modo da non creare delle microfessure successivamente dunque sarà molto semplice applicare un primo strato di malta dello spessore molto sottile dei 3-5 mm posare la rete di rinforzo in questo caso nell'immagine di destra vedete una rete in fibra di carbonio e successivamente chiudere il rinforzo con un secondo strato di malta sempre nell'ordine dei 3-5 mm nel caso dell'intonaco armato invece le fasi applicative sono simili ma allo stesso tempo diverse perché ci sono delle grandi differenze dal punto di vista dell'applicazione dei connettori infatti la fase iniziale di demolizione dell'intonaco esistente è comunque coerente con i sistemi FRCM dobbiamo ovviamente asportare e rimuovere tutto ciò che è incoerente quindi non può essere non può offrire una resistenza al pannello murario preparazione della superficie quindi ricucire eventuali lesioni se sono presenti in modo sostanziale fare dei fori suborizzontali che poi possono possono accogliere l'inserimento dei connettori eliquidali che verranno inseriti con un trapano che funzionerà tramite un particolare mandrino posa dei connettori eliquidali e dei fazzoletti posa della rete e infine inumidire il supporto per accogliere per accogliere la realizzazione dell'intonaco mediante una malta in questo caso è molto più utile utilizzare delle malte base calce che è anche più semplice da applicare con degli strumenti di cantiere vediamo in questo caso delle immagini di applicazioni su strutture in muratura e l'operatore che in modo semplice va a spruzzare la malta sull'intonaco sulla rete già posata vediamo invece una serie di interventi su strutture in muratura che spesso necessitano di interventi quali le strutture voltate vediamo in questa in questa slide quali sono i principali interventi che spesso vengono proposti per migliorare le prestazioni della muratura spesso vediamo che sono utilizzate delle catene o dei contrafforti che servono ad assorbire la spinta orizzontale derivante proprio dalla volta nel passato ma ancora oggi spesso vengono utilizzate delle controvolte in CA e adesso più avanti vedremo perché sono degli interventi che effettivamente dovrebbero essere evitati l'utilizzo dei materiali compositi quali FRCM e poi interventi classici quali la realizzazione di rinfianchi di frenelli o di costoloni per quanto riguarda l'intervento olle controvolte in CA è un intervento che spesso viene realizzato per migliorare le prestazioni della muratura senza realmente conoscere quale potrebbe essere la problematica nel realizzare un elemento così rigido in una struttura che deve lavorare in compressione infatti dobbiamo sempre ricordarci che le strutture voltate sono progettate per lavorare perfettamente in uno stato di sollecitazione a compressione nel momento in cui viene realizzata una controvolta all'estradosso con un materiale che è molto rigido ma che comunque ha uno spessore importante quindi banalmente anche un sistema CRM applicato all'estradosso nello spessore di 4-5 cm può portare a una decompressione a uno stato di decompressione della volta esistente e in uno stato magari di sisma siccome le sollecitazioni le tensioni migrano verso gli elementi più rigidi portare dunque a una risposta sismica solo della controvolta in CA che porterebbe dunque a un collasso della volta esistente per questo è molto più utile utilizzare dei materiali che non alterano né la massa né la rigidezza dell'elemento esistente quali materiali compositi FR e CM vediamo in questo caso una breve sperimentazione che va a dimostrare l'efficacia del sistema facendo una brevissima introduzione sulla cinematica dell'arco come sappiamo un arco perde la sua stabilità nel momento in cui si formano almeno quattro cerniere quattro fessure quindi se noi riusciamo a evitare la formazione di queste quattro cerniere o perlomeno almeno di due cerniere di queste riusciamo sicuramente a evitare il collasso dell'arco che poi ovviamente può avvenire secondo altri meccanismi di collasso quali quello a taglio in questi due video vi faccio vedere una sperimentazione effettuata in cui nel primo è stato testato un arco non rinforzato con un carico concentrato applicato eccentricamente rispetto alla volta e il collasso dell'arco che è avvenuto secondo le modalità descritte nella slide precedente vediamo lo stesso arco rinforzato con uno strato di FRCM in PBO sia all'intradosso che all'estradosso e vediamo come non solo si è avuto un incremento del carico massimo sopportato dall'arco ma soprattutto si è avuto uno spostamento molto più grande prima del collasso e questo è dimostrato dai grafici che vediamo in questa slide dove viene confrontata qui in questa slide vengono confrontati i risultati di un'altra sperimentazione dove il rinforzo era applicato solo all'estradosso vediamo come in questo caso il muro scusate l'arco non rinforzato ha ottenuto un incremento del carico di oltre quattro volte il carico iniziale ma soprattutto la riserva di spostamento che ha prodotto mantenere comunque l'arco stabile prima di arrivare al collasso interessante è anche questa sperimentazione in cui è stato confrontato lo stesso arco rinforzato in questo caso all'intradosso con due sistemi FRCM diversi quindi un sistema FRCM in fibra di PPO e un sistema FRCM in fibra di carbonio vediamo come in entrambi i casi abbiamo ottenuto dei carichi al collasso nettamente più alti rispetto alla condizione della condizione del non rinforzato interessante però è stato il risultato quando abbiamo confrontato lo spostamento che si è ottenuto mediante la propria effettuata sull'arco rinforzato con la fibra di PPO vediamo come con la fibra di carbonio abbiamo ottenuto un incremento del carico leggermente superiore però con la rete in fibra di PPO abbiamo ottenuto uno spostamento che è nettamente più alto a quello del carbonio e ciò è dovuto a una particolare proprietà che solo il PPO presenta nei confronti di questi sistemi FRCM andiamo più nel concreto a descrivere questa proprietà questa proprietà è rappresentata dall'ultimo tratto della curva della curva di distacco del PPO dal supporto infatti in fase di certificazione è necessario effettuare delle prove di distacco dal supporto che permettono di diagrammare la resistenza e lo sforzo di distacco dal supporto in funzione dello spostamento che si ha dalla fibra dalla matrice vediamo come nell'ultimo tratto della prova si ottiene un carico costante questo carico costante va a rappresentare proprio quella riserva di spostamento che è data dalla fibra che comunque rimane legata alla matrice cementizia senza rompersi e senza distaccarsi totalmente a differenza ovviamente di altri materiali quali il carbonio in queste slide una serie di applicazioni quindi della volta queste sono delle immagini che sono prese dalle nostre tavole tecniche tavole che potete ovviamente trovare sul sito Ruregold e che descrivono l'intervento sia all'intradosso sia all'estradosso su delle volte in muratura sia in caso in cui il rinforzo venga fatto con una rete bidirezionale e venga fatto quindi in maniera diffusa su tutta la volta sia con applicazioni che noi chiamiamo a traliccio in cui si va a dimensionare il passo delle strisce da applicare e in questo slide vediamo quindi anche una serie di immagini di cantiere in cui l'applicatore in maniera del tutto semplice riesce ad applicare il nostro sistema vediamo anche il dettaglio del connettore che permette di trasferire il carico che è assorbito quindi dal sistema sulle parti verticali della volta io vi ringrazio per l'attenzione vi lascio in questo slide i nostri contatti dell'ufficio tecnico che potete contattare nel caso in cui si vogliono approfondire sia delle tematiche di questo tipo sia delle tematiche legate più prettamente anche ai calcoli strutturali infatti l'ufficio calcoli l'ufficio l'ufficio tecnico si occupa proprio dell'assistenza alla progettazione dei tecnici che lo richiedono buongiorno a tutti benvenuti in questa ultima parte dell'incontro di oggi in questa parte vedremo alcuni esempi applicativi all'interno del software Tremuri Project in particolare vedremo come inserire interventi su pannelli in muratura su pilastri in muratura e interventi come l'inserimento di catene in SRP e SRCM partiamo dal primo esempio che riguarda i pannelli in muratura per l'inserimento di questi interventi andiamo all'interno dell'ambiente struttura selezioniamo il comando pannello andiamo a selezionare il pannello su cui vogliamo andare ad inserire il nostro rinforzo e andiamo all'interno della maschera di definizione delle caratteristiche in cui troviamo la configurazione di pannello murario dopo aver inserito le dimensioni del nostro pannello come altezza spessore e anche il materiale andiamo a spuntare l'opzione muratura armata e rinforzi per andare ad inserire il nostro intervento cliccando il pulsante qualato vediamo quali tipi di rinforzi possiamo andare ad inserire possiamo ad esempio inserire una muratura armata un rinforzo armato oppure nel nostro caso il rinforzo di tipo FRP e SRCM una volta selezionata quest'opzione selezioniamo il comando inserisci e vediamo a video la finestra di inserimento dei parametri di input necessari per la definizione del nostro rinforzo come prima cosa dobbiamo andare a selezionare il tipo di rinforzo che vogliamo inserire se apriamo la tendina vediamo che le due opzioni sono rinforzo di tipo FRP piuttosto che un rinforzo di tipo FRCM chiaramente cambiando l'opzione varieranno anche i parametri di input necessari quello che possiamo fare per la definizione del nostro rinforzo è effettuare una definizione utente e quindi andare ad inputare manualmente tutti i parametri necessari per la definizione oppure più velocemente andare a caricare il nostro rinforzo dalle librerie presenti all'interno del programma per fare quest'ultima operazione è sufficiente cliccare questo pulsante in alto a destra dove appunto si aprono tutte le librerie dei rinforzi presenti all'interno del programma andiamo a selezionare la nostra libreria Ruregold e vedete che i nostri rinforzi sono raggruppati per tipologia quindi FRP e FRCM e cliccando sulle varie opzioni possiamo vedere a lato il riassunto dei parametri geometrici e meccanici che descrivono il nostro rinforzo oltre ai classici parametri quindi spessore equivalente larghezza della striscia resistenza deformazioni abbiamo anche tra i parametri descrittivi questi ultimi tre campi che ci indicano quali sono le condizioni di applicabilità di questo rinforzo la prima ad esempio ci dice a quale materiale possiamo applicare questo tipo di rinforzo quindi ad esempio per il rinforzo selezionato vediamo che questo rinforzo è adatto sia a superfici murarie che cemento armato eccetera poi ci dice anche a quali elementi possiamo applicarlo pilastri travi pannelli eccetera e poi quale modalità di applicazione possiamo effettuare un rinforzo longitudinale piuttosto che di confinamento eccetera quindi in realtà abbiamo anche all'interno della libreria dei parametri informativi che aiutano l'utente nella giusta scelta del rinforzo più idoneo per l'intervento che deve effettuare nella parte bassa abbiamo anche dei messaggi informativi che appunto guidano l'utente nell'inserimento sempre del rinforzo corretto in questo caso avevamo scelto di inserire un rinforzo di tipo FRCM quindi andremo a selezionare il nostro rinforzo all'interno di questo gruppo andiamo ad esempio a selezionare questo rinforzo una volta selezionato vediamo anche qui che possiamo applicarlo a un materiale muratura quindi nel nostro caso abbiamo visto che il pannello era un pannello murario che è applicabile all'elemento pannello e possiamo intervenire con un rinforzo di tipo superficiale quindi diciamo che questo rinforzo che abbiamo scelto è un rinforzo idoneo per l'intervento che stiamo andando a definire confermiamo la nostra scelta e vediamo come tutti i parametri presenti all'interno della libreria sono stati inseriti all'interno della finestra di input chiaramente è sempre possibile andare ad intervenire manualmente per modificare uno o più parametri che sono stati precedentemente caricati nel caso dell'FRCM abbiamo anche un'ulteriore opzione che è quella di poter usare o meno i valori convenzionali e per farlo basta semplicemente andare a spuntare o non spuntare questa spunta che vedete qua in alto una volta compilati tutti i parametri necessari per la definizione del rinforzo andiamo a dare un nome al nostro rinforzo confermiamo e vedete che il nostro rinforzo è stato creato una volta fatta questa operazione se apriamo la tendina all'interno della definizione caratteristiche del pannello vedete che troviamo il nostro rinforzo appena creato quindi per associare l'intervento sarà sufficiente andare a selezionare il rinforzo che abbiamo creato e confermare l'inserimento la stessa operazione la possiamo fare ad esempio per l'inserimento di un intervento di rinforzo all'interno di un pilastro chiaramente questa volta dovremo andare a selezionare il comando di definizione del pilastro andare a selezionare i nodi in cui vogliamo andare ad inserire il nostro pilastro ad esempio in questo punto selezionare il tipo di pilastro che vogliamo andare ad inserire quindi cemento armato piuttosto che muratura o ciaio legno ad esempio in questo caso andiamo a selezionare muratura e una volta date le dimensioni come abbiamo fatto nel caso del pannello andiamo a spuntare l'opzione di inserimento del rinforzo e clicchiamo il pulsante di definizione anche qui abbiamo la finestra di inserimento dei parametri che chiaramente è un po' diversa rispetto a quella del pannello questo perché ovviamente i dati di input sono differenti qui vediamo che allo stesso modo abbiamo la scelta della tipologia quindi FRP piuttosto che FRCM e abbiamo anche la possibilità di andare ad inserire tessuti piuttosto che delle barre vedete che anche qua abbiamo inserito alcune informazioni aggiuntive che aiutano l'utente a capire quali sono i parametri necessari per l'input per vederne la descrizione basta andare a selezionare la riga della tabella interessata e vedete che sotto abbiamo uno spazio dove appunto si descrive qual è il parametro di input e oltre al parametro di input anche la CNR di riferimento andiamo a fare la stessa operazione che abbiamo fatto nel caso dei pannelli quindi andiamo ad aprire le nostre librerie selezioniamo la libreria Ruregold e questa volta andiamo ad esempio a definire un SRP selezioniamo un rinforzo dalla libreria di nuovo vediamo a destra il riassunto dei parametri che descrivono il nostro rinforzo chiaramente questi parametri sono tutti i parametri che ci vengono forniti dai produttori anche qua vediamo che il rinforzo è adatto al tipo di inserimento che stiamo facendo perché il materiale muratura risulta essere tra le condizioni di applicabilità anche qui elemento pilastro è presente tra le condizioni di applicabilità e poi come modalità di applicazione abbiamo il confinamento quindi questo rinforzo che abbiamo scelto è idoneo all'intervento che stiamo andando a fare confermiamo l'inserimento vediamo che i parametri sono stati completati ci resta soltanto da definire il nome del rinforzo e confermare l'inserimento anche qui allo stesso modo che abbiamo fatto per che abbiamo utilizzato per il pannello andiamo a selezionare il rinforzo dalla tendina e in questo modo abbiamo l'associazione tra il tipo di rinforzo e il pilastro che stiamo andando ad inserire vedete che dopo l'associazione del rinforzo con l'elemento sotto la tendina sono comparse due informazioni la prima riga diciamo quella in nero ci indica qual è il fattore di miglioramento del rinforzo ovvero quel fattore che poi andrà diciamo a moltiplicarsi per le resistenze del materiale andando così a tener conto del miglioramento che il rinforzo va ad imporre sul nostro elemento nella parte ancora più in basso invece abbiamo un'altra casella informativa che è questa in rosso dove appunto ci sono dei suggerimenti che sono degli estratti della CNR ad esempio in questo caso vedete che il coefficiente di miglioramento è pari a 1,65 e vediamo che la didascalia ci dice che si suggerisce l'utilizzo di un rinforzo che limiti l'increamento tensionale a valore inferiore del 50% della resistenza di balde quindi diciamo che lo scopo di questa didascalia è quello appunto di aiutare l'utente nel guidarlo in base a quelli che sono anche i suggerimenti della CNR allo stesso modo quindi non ci resta che poi andare a confermare l'inserimento e abbiamo creato il nostro pilastro con il rinforzo associato un'altra tipologia di interventi è quella che riguarda l'inserimento di catene in FRP o FRCM anche qui questa catena andremo ad inserirla sull'elemento pannello quindi per inserirla sarà necessario di nuovo cliccare nuovamente il comando del pannello una volta cliccato il comando andiamo a selezionare sempre la nostra parete e per l'inserimento di questa catena in fibra andiamo a spostarci sulla configurazione pannello più catena qui abbiamo sempre la parte descrittiva che riguarda il pannello dove precedentemente avevamo inserito appunto il nostro rinforzo superficiale sul pannello questa volta andremo a diciamo togliere la spunta da questa sezione che riguarda il pannello e andremo a lavorare nella sezione che riguarda l'inserimento della catena la catena che può essere di due tipi la classica catena in acciaio oppure se ci spostiamo su questa opzione andremo ad inserire la catena in FRP o FRCM il primo campo che dobbiamo andare a compilare è quello che riguarda la quota di inserimento della catena rispetto al nostro pannello vedete che qui il programma suggerisce già una quota di base che è quella corrispondente all'altezza del pannello quindi la catena viene messa in sommità del pannello però è possibile modificare il valore di questa quota per inserire il rinforzo alla quota che si desidera per l'inserimento invece del nostro rinforzo la logica è sempre la stessa quindi andremo a cliccare sul pulsante qui a lato andremo a selezionare l'opzione di inserimento e abbiamo di nuovo la nostra finestra di input dei dati anche qui la configurazione della finestra è leggermente diversa perché chiaramente i parametri di input cambieranno però di nuovo la logica è sempre la stessa quindi andiamo a scegliere la tipologia del rinforzo andiamo a scegliere il rinforzo che vogliamo caricare dalla nostra libreria Ruregold ad esempio andremo a scegliere questo rinforzo sempre a lato avremo la nostra tabella che ci riassume i parametri di input del rinforzo andiamo a confermare e ci carichiamo quindi da libreria i parametri del rinforzo rispetto al caso dei pannelli e del pilastro qui abbiamo un'ulteriore opzione che abbiamo sia nel caso di FRP che nel caso di FRCM che riguarda l'inserimento di una cerchiatura completa quindi il classico intervento di incatenamento in fibra che viene effettuato lungo tutto il perimetro della struttura quindi se l'intervento che stiamo andando ad inserire è appunto questo incatenamento allora dovremo andare a spuntare questa opzione di cerchiatura completa altrimenti se l'inserimento della catena riguarda soltanto il pannello in esame e la cerchiatura non è completa a questo punto possiamo lasciare senza spunta questa opzione di cerchiatura completa andiamo a dare un nome al nostro rinforzo e confermiamo l'inserimento la procedura è sempre la stessa andiamo a caricarlo all'interno della tendina per associarla al nostro pannello quindi quello che il rinforzo che abbiamo appena inserito verrà considerato poi all'interno della nostra analisi globale quindi tutto quello che andiamo ad inserire all'interno di questo ambiente struttura quindi rinforzo sulla parete rinforzo sul pilastro piuttosto che quello che abbiamo visto come ultimo esempio cioè l'incatenamento andranno tutti ad influire sul calcolo globale quindi come dobbiamo procedere dobbiamo procedere andando ad effettuare la classica mesh del modello e il calcolo delle nostre analisi ora per per questione di tempo io ho già effettuato il calcolo delle analisi una volta effettuato il calcolo quello che possiamo andare a fare ancora sulla nostra catena è andare a verificare la catena inserita per farlo andiamo a cliccare questo comando di gestione elementi di rinforzo dopo aver selezionato la parete in cui abbiamo inserito la catena chiaramente quindi era questa parete di 4 verticale andiamo a selezionare il comando gestione elementi di rinforzo si apre una finestra all'interno della quale vediamo il prospetto di mesh della nostra parete in cui possiamo individuare la catena che abbiamo inserito qui in alto a sinistra abbiamo l'opzione di selezione delle catene che vogliamo verificare il primo pulsante permette di verificare la catena in acciaio mentre il secondo pulsante sarà quello che servirà nel nostro caso quindi quello che permette di effettuare la verifica delle catene FRP e FRCM andiamo a cliccare il pulsante selezioniamo la catena che vogliamo verificare dopodiché andiamo all'interno della finestra utilità e selezioniamo l'opzione di collegamento catena vediamo che la catena che abbiamo selezionato all'interno del prospetto di parete viene riportata nella sezione collegamento catena FRP FRCM dove troviamo i dati relativi alla catena quindi il tiro lo spessore della muratura la muratura di cui è composto il pannello il rinforzo di cui è composto l'intervento quindi quel rinforzo catena che avevamo definito all'interno dell'ambiente struttura la resistenza offerta dall'inserimento del rinforzo e il coefficiente come risultato finale una volta inserito questo intervento di rinforzo quindi valutato nell'ambiente di analisi globale lo stesso intervento di rinforzo di inserimento di catena in FRP e FRCM lo possiamo andare ad inserire all'interno dell'ambiente di analisi cinematica avevamo detto precedentemente che tutto quello che avevamo inserito all'interno dell'ambiente struttura era un intervento considerato a livello di analisi globale mentre nel caso di analisi cinematica dobbiamo andare dobbiamo spostarci all'interno dell'ambiente analisi cinematica e andare a definire il nostro blocco cinematico e poi in seguito al nostro intervento quindi per la creazione del nostro cinematismo andiamo a selezionare questo comando che ci permette di inserire il nuovo cinematismo dopodiché andiamo a scegliere il blocco cinematico quindi mediante questo comando possiamo andare a tracciare il perimetro grafico che individua il nostro blocco andiamo ad inserire la cerniera una volta inserita la cerniera proviamo ad andare a calcolare il nostro cinematismo vedete che nel caso di vincolo in quota la verifica non risulta soddisfatta quindi potrebbe essere ad esempio il caso di andare ad inserire un collegamento catena in FRP o FRCM per l'inserimento di questo tipo di collegamento è sufficiente andare a cliccare questo comando spostarsi sull'opzione di collegamento catena andare a cliccare sul comando inserisci che ci chiede di selezionare il nodo in cui andiamo ad inserire la nostra catena una volta selezionato il nodo andiamo a definire il tipo di catena che stiamo andando ad inserire quindi acciaio piuttosto che FRP e FRCM andiamo ad inserire l'entità del tiro che rappresenterà l'inserimento del nostro rinforzo andiamo ad inserire l'angolo di orientamento dell'intervento e una volta finito l'inserimento vediamo che questo diciamo quadratino che è comparso sul disegno ci indica che la catena è stata inserita una volta inserita la catena è sufficiente andare a cliccare di nuovo sul comando di calcolo del cinematismo attivo e andare a vedere come è modificato il risultato in seguito all'inserimento della nostra catena vediamo che dopo l'inserimento della catena la verifica risulta soddisfatta quindi diciamo che il nostro intervento ha migliorato la situazione con questo io avrei concluso la carrellata agli esempi di interventi di rinforzo vi ringrazio per l'attenzione